Dopo l'esito delle regionali si passa all'analisi del voto. Fratelli d'Italia si conferma primo partito in Abruzzo. Come già accaduto per le elezioni politiche dell'ottobre 2022, alle consultazioni regionali il partito della Premier Meloni e del presidente riconfermato Marco Marsilio fa incetta di voti e dovrebbe eleggere ben otto consiglieri. Una crescita esponenziale è quella del partito della leader del governo nazionale in Abruzzo che passa dal 6,49% di 5 anni fa al 24,10%. Che sapore ha la vittoria? Lo dice ai nostri microfoni il vicepresidente della Camera in quota Fratelli d'Italia, Fabio Rampelli. Il sapore è un sapore meraviglioso perché è come se si andassero concretizzando un po' tutti i nostri sogni, cioè fare un buon lavoro dal punto di vista dell'amministratore, quindi al servizio della propria comunità senza però mai smarrirsi rispetto ai valori di riferimento. Rampelli pone l'accento sulla necessità di restituire nobiltà alla politica e difende l'operato della classe dirigente accusata in diverse occasioni durante la lunga campagna elettorale di non aver lavorato bene in Abruzzo. Fratelli d'Italia, la destra in genere, ha un'autorevolezza che gli deriva da questa disseminazione di personalità che vengono dal basso, dalla militanza giovanile, dai consigli di facoltà, dai consigli di istituto, dai consigli di quartiere, dai consigli comunali, regionali, dalle giunte. C'è una grande esperienza. Non è vero che noi non abbiamo classe dirigente. Marsilio è la testimonianza di una classe dirigente molto, molto autorevole, molto preparata, con le idee chiare. Parla di risultato atteso il primo eletto di Fratelli d'Italia della circoscrizione di Pescara, Luca De Renzis, che ha portato a casa quasi 5.000 preferenze. Per De Renzis, tra le priorità del governo regionale abruzzese, per i prossimi 5 anni, aree interne e infrastrutture. Gli abruzzesi hanno capito il buon lavoro fatto e quindi noi continuiamo su questa strada accelerando ancora di più. Sicuramente dobbiamo dare attenzione alle aree interne, questo è sicuramente uno dei punti principali. Dobbiamo lavorare sulle infrastrutture, dobbiamo ridare credibilità, come stiamo facendo, a una regione che per troppi anni è stata dimenticata dai palazzi romani e quindi adesso noi siamo pronti, credo, per fare il salto di qualità. Grazie a tutti.